buongiorno ragazzi ora vi faccio vedere questo piccolo programmino che serve registrato e questo registra tutto quello che fa il cellulare quindi come vedi simono sto muovendo per schermo e questo anche per esempio vediamo un po' attivare la fotocamera sono fuori in una natura e si vede tutto quello che vedo la fotocamera ovviamente mentre sto registrando posso zoomare posso fare posso fare scattare una foto posso anche registrare premere sto registrando quello che stiamo vedendo sia con il registratore del programma sia con il registratore e la fotocamera ecco blocco registrazione però sta registrando il programma di registrazione dal telefono ora clicchiamo anche dai c'è una fotocamera posso aprire qualsiasi programma che sta sul cellulare potrei aprire la musica per esempio non la faccio ascoltare perché altrimenti youtube se metto qualche brano si percopi anche in blocco di video quindi voglio evitare non vi faccio sentire la musica ma come vedete si può fare tutto cioè dalla telefonina posso registrare tutto quello che faccio sul telefonino è comodo anche per fare ovviamente le recensioni o per fare qualsiasi registrazione qualsiasi registrazione qualsiasi registrazione qualsiasi registrazione e tutto ecco per esempio vediamo queste cose qua sul cellulare questo è tutto quello che io ho sul cellulare questo momento potrei aprire anche in gioco per esempio adesso vediamo se si apre non lo so che abbiamo sul tasto back più forzatamente ecco qua e l'abbiamo giusto questa è la mia schermata principale questa è la mia schermata principale questa è la mia schermata principale questa è la mia schermata matto ma non c'è vabbè quindi niente vi mostrate come funziona questo programma con la lingua lunga vi saluto